Le insegne e i marchi riconducibili alla stalle Bet Malta presenti sul territorio italiano sono stati sottoposti a sequestro preventivo in esecuzione di un'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Catanzaro, che prevede anche il divieto temporaneo di esercitare in tutta Italia l'attività di esercizio e raccolta di scommesse sportive. L'operazione di sequestro preventivo eseguita sul territorio nazionale nella nostra provincia ha interessato l'oscuramento di insegne e loghi di 12 attività di esercizio di raccolta scommesse sportive. La divisione Polizia Amministrativa della Questura e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno eseguito il provvedimento rispettivamente nei confronti di tre esercizi operandi a Caltanissetta e tre nel comune di Gela. Analoghi provvedimenti sono stati eseguiti dai militari dell'Arma dei Carabinieri nei comuni di Serra di Falco, Mussomeli, Campofrango, Vallelunca Pratameno, Riesi e Butera per un totale di sei esercizi di raccolta scommesse. L'ipotesi investigativa all'origine del sequestro. La società Stallebet avrebbe raccolto in Italia scommesse su eventi sportivi e di altro tipo, utilizzando sia proprie sedi che imprese indipendenti senza alcun titolo concessorio dei monopoli di Stato e senza la prescritta licenza rilasciata dal questore, commettendo il reato di esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Il provvedimento cautelare ha lo scopo di far cessare il comportamento tenuto dai soggetti coinvolti, i quali, pur essendo consapevoli di non poter accettare scommesse, hanno ugualmente proseguito nella loro attività, operando come ricevitoria fisica e continuando a non versare l'imposta unica sulle scommesse.